...che prende il formato attaccato da Piero Daio, i quali che affrontano la prima piegata con Novidocchi e si arriva alla seconda posizione, attacca nuovamente e si riporta su Battistrada, Battistrada Tottui che ha deciso di impiemere vittime alla gara, Tottui nei confronti di Novidocchi e i due affrontano la prima piegata con Tottui all'esterno del quale Novidocchi e Sarducinca per parte di lunghezza di vantaggio, Tottui affronta il primo passaggio e inizia il giro conclusivo, Tottui Novidocchi e Piero Daio, Ancai, la terza posizione avvicinata da Ubalda mentre Rosale all'esterno anche lì che è in ultima posizione, Piero Daio, passa Novidocchi e Luca e un'ultima piegata Novidocchi e Sarducinca con Tottui che si allunga la seconda posizione, Novidocchi e Tottui, Tanca, Ubalda quest'ordine di cavalli ad affrontare la retta opposta dove crea un elastico e Novidocchi che allunga ancora sugli inseguitori allunga mentre in seconda posizione risale Tanca che supera di slancio Tottui mentre recupera anche Ubalda, cavalli che affrontano la piegata conclusiva con Novidocchi saldamente al comando quantificabile in una quindicina di lunghezze la distanza tra Novidocchi e Tanca che fa quello che può ma muove una mano Simone Medeo con Novidocchi che arriva in scioltezza ed è facilissimo la formazione di Novidocchi e Simone Medeo che viene tranquillamente a conquistare il primo posto nei confronti di Tanca al terzo posto Ubalda e al quarto Tottui quindi questi i primi quattro che conquistano il posto utile per conquistare la moneta Novidocchi trionfa